The Last of Us parte 1 per PC, sono stati annunciati i requisiti tecnici e sono veramente alti e gli utenti non sono per niente contenti, Forspoken a quanto pare è ufficialmente un flop, Square Enix è fortemente delusa dalle vendite e vorrei ben vedere, e l'E3 2023 è stata annunciata la Digital Week ma purtroppo c'è anche confermata l'assenza di uno dei publisher più importanti. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questi episodi su YouTube oppure sul podcast. Allora ragazzi, piano piano che scorrono le settimane ci stiamo avvicinando agli eventi estivi di giugno e il momento in cui buona parte dell'industria videoludica si raccoglie e offre ai giocatori e alla stampa, insomma all'intera community videoludica, una prospettiva e dei reveal di giochi che dovranno uscire di lì a breve o che usciranno proprio in quel momento o che usciranno nell'immediato futuro. anche a volte un po' più lontano. Uno degli eventi che ci sarà quest'anno sarà l'E3 dopo l'assenza di tanti tanti anni. Il problema è che molti stanno cominciando a pensare che sia un evento un tantinello azzoppato e nonostante sia stata annunciata la Digital Week abbiamo anche un'assenza eccellente ora confermata. Comunque, vediamo tutto quanto. E3 2023, annunciata la Digital Week ma è mistero su giochi e publisher presenti. ReadPop ha annunciato E3 2023 Digital Week, una settimana di eventi digitali al via il prossimo 11 giugno. Una bella notizia per gli appassionati videogiochi, tuttavia c'è ancora assoluto mistero su quali editori prenderanno parte all'evento. L'organizzatore ha confermato che la Digital Week ospiterà eventi PC Gaming Show, Future Game Show, Guerrilla Collective e Black Voices in Gaming. Altri dettagli verranno svelati prima dell'inizio della fiera, previsto per il 13 giugno. Di fatto, a pochi mesi all'inizio dell'evento, non è ancora chiaro cosa vedremo all'età del 2023 al momento che Microsoft ha organizzato un Xbox Showcase per conto proprio in programma proprio l'11 giugno, a seguire al termine dello show il tanto atteso Starfield Direct, mentre Sony e Nintendo hanno confermato la loro assenza alla fiera di Los Angeles. Ubisoft ci sarà, ma non è chiaro se il publisher francese avrà un proprio stand fisico o se sarà presente solamente con un evento pre-registrato o una serie di appuntamenti live in streaming. Insomma, la situazione legata ai publisher e ai giochi presenti e ai posti metri è ancora poco chiara, tante le defezioni, pochissime le certezze. Con l'assenza di Xbox e Sony e Nintendo, le 3.020 perdi il supporto delle tre grandi hardware house. E infatti, Microsoft salta le 3.020, l'evento Xbox trasmesso in co-stream con la Digital Week, quindi non ne farà parte. I tagli al budget del marketing, che è della verità secondo me sono un po' una scusa, però vabbè, lasciavano presagire che Microsoft avrebbe saltato le 3.020 ed ecco che il Colossi Redmond ha ufficialmente confermato che quest'anno non ci sarà alcuno show Xbox presentato sullo show floor della fiera Los Angelina. Con una nota fornita a igiene.com, Microsoft ha confermato che non prenderà direttamente parte alle 3.020 e che quindi l'Xbox Showcase in programma per l'11 giugno non farà parte integrante della storica fiera a tema videoludica. La compagnia statunitense ha comunque intenzione di collaborare con l'Aise e supportare, seppur non in prima linea, l'evento di Los Angeles e lo farà attraverso un co-stream del suo evento con la Digital Week. Non vediamo l'ora di tenere i nostri Xbox Game Showcase l'11 giugno e condivideremo maggiori dettagli in seguito. Non vediamo l'ora di trasmettere in co-streaming il nostro evento come parte delle 3 Digital, ma non saremo sullo show floor delle 3, le dichiarazioni di Microsoft. E sì, mancheranno anche Sony Nintendo, questo l'abbiamo già detto. Allora, questa cosa è particolarmente significativa secondo me, perché è esattamente il segnale che aspettavamo per capire se le aziende in questo momento hanno o meno fiducia nelle 3 e la risposta purtroppo sembra essere proprio no. Questo non vuol dire però che non vogliono supportarlo in nessuna maniera e il co-stream organizzato da Xbox è allo stesso tempo un compromesso, una via di mezzo e anche un tantinello di ipocrisia. Perché effettivamente se uno intende avere il proprio show, consentire il co-stream con una cosa preesistente è un modo certo per supportare un'altra realtà, ci sta perfettamente, però è anche un modo velato per dire guarda, io voglio fare la mia cosa piuttosto che apparire sul tuo palco a fare la mia cosa e quindi dai, ti offro il co-stream dell'evento perché comunque ho intenzione di supportarti. Francamente è un po' triste come cosa, perché vuol dire che le aziende non sono contrarie all'esistenza dell'E3, non vogliono boicottare l'esistenza di questo show e di questa fiera, se vogliamo, dopo tutto l'E3. Mi ricordo, è stata per tanti anni la fiera più grande del videogioco, in alcuni casi si potrebbe definire perfino l'unica grande, almeno negli anni passati, e quindi ha un certo nome dietro di sé. Secondo me, più che altro, le aziende non se la sono sentita di dirgli del tutto di no all'E3, perciò gli hanno concesso qualcosa. Oddio, a dire la verità, Microsoft gli ha concesso qualcosa, perché Sony e Nintendo probabilmente non gli hanno lasciato assolutamente niente. Sony è già da un po', c'è da dirlo, che non partecipava agli E3 neanche quando c'erano. Nintendo però bisogna vedere e l'assenza è stata già confermata. Sarà totale e assoluta? Non ci sarà nessun prodotto Nintendo nell'intera Digital Week? Questo è da vedere, però pare proprio di sì. E francamente questo è una ripartenza decisamente con un passo falso, per un evento che cerca di riacquistare la propria centralità, e a questo punto non vedo come potrebbe fare. Attenzione ragazzi, questo non vuol dire che noi non lo vedremo, perché lo vedremo assolutamente questo nuovo E3 2023, e soprattutto non significa che non vedremo niente all'interno di questo E3. Quindi, al di là di questo discorso che abbiamo fatto, io sono comunque curioso di vedere che cosa ci sarà, Ubisoft ci sarà, ci sarà sicuramente anche qualcun altro, e quindi magari è un evento che vale la pena vedere lo stesso. Però, da qui a dire che l'E3 è tornato in pompa magna, beh, se ne passano, ecco, come dire, diverse leghe nautiche da questo. Abbiamo parlato a lungo di Forspoken, io l'ho giocato tutto quanto e ho fatto una recensione, in cui ponevo l'accento soprattutto sul fatto che fosse stato decisamente maltrattato questo gioco, ovvero che, a mio parere, fosse assolutamente palese che l'idea originaria non fosse esattamente questa, che fosse molto diversa e che sia stato tagliato con l'accetta, probabilmente per problemi di sviluppo, o per problemi di tempo, o per consegnare qualcosa. Insomma, questo titolo, da molti punti di vista, ha tante mancanze, e molti giocatori non l'hanno apprezzato come Square Enix avrebbe voluto. E non è che ci volesse un genio a capirlo, c'erano tante cose che convincevano molto poco. Altre cose sono carine, eh, questo gioco non è da buttare, però francamente non è anche da ascrivere ai migliori degli ultimi anni, assolutamente no. E infatti, a quanto pare, e adesso lo sappiamo ufficialmente, Forspoken è un vero e proprio flop. Forspoken è un flop, Square Enix fortemente delusa dalle vendite dei giochi minori cosiddetti. Forspoken viene considerato un flop commerciale da Square Enix. L'action RPG per PC e PlayStation 5 pubblicato è stato pubblicato a gennaio 2023, e a quanto pare non è riuscito a soddisfare le aspettative di vendita che la compagnia giapponese si era prefissata. A confermarlo è stato Yusuke Matsuda, l'attuale presidente di Square Enix, in un report ufficiale che tra vari temi trattati si è soffermato anche sull'avventura con il protagonista Frey Holland. Matsuda si è soffermato anche sulle valutazioni altalenanti della critica, definendole una sfida, ma notando anche che alcuni aspetti del gioco sono stati comunque elogiati, e che dunque si ripartirà da questi spunti per la realizzazione di futuri progetti. Alla luce di quanto emerso, non sorprende dunque che Square Enix si fonderà presto con Luminous Productions. I creatori Forspoken cesseranno di esistere come realtà a se stante a partire dal 1 maggio 2023. Santi Dio, che bello di giochi. Grazie, avete fatto proprio un ottimo lavoro, e quindi vi riassorbiamo completamente. E tutti i membri verranno ridistribuiti presso altri studi interni del publisher. Intanto il prezzo di Forspoken sta crollando con uno store europeo che già lo vende scontato del 50%, questo gioco è uscito due mesi fa, ragazzi, a prezzo pieno. È un'uscita main di Square Enix, questo non è tanto un gioco minore, certo, non è un Final Fantasy, però diciamo che è nella fascia alta. Ma c'è di più. A quanto pare, Square Enix è rimasta molto delusa anche dalle performance commerciali di titoli di media e piccola portata. Matsuda spiega che alcune produzioni non hanno rispettato le aspettative di vendita, tuttavia non rivela nello specifico di quali giochi si tratti. Vabbè, Babylon's Fall, probabilmente ce ne sono anche tanti altri. Alla luce di questi dati, non è da escludere che l'azienda nipolica cambia breve le sue strategie per lo sviluppo dei prossimi prodotti, puntando con maggior forza sui brand di maggior richiamo. Ecco, e questa è praticamente la strategia Ubisoft. Quello di dire abbiamo fallito con questi progetti e quindi mi dispiace, ci abbiamo provato e niente, e perciò adesso ci concentriamo sulle cose che tanto sappiamo che vanno bene. Tradotto, facciamo un bordello di Final Fantasy. Ecco, onestamente io non condivido questa scelta, perché, parliamo di forse poco in un secondo, il mondo che avevano creato non era affatto male. La protagonista, anche se a tratti fastidiosa, anzi a tratti per un 30% del tempo gli avrei voluto dare una craniata con tutta la mia forza, aveva però degli spunti che potevano essere interessanti. Ma tra l'azzoppamento assoluto della trama, le cose francamente arcaiche che ci sono all'interno del gioco dal punto di vista di gameplay e cose del genere, hanno azzoppato un titolo che effettivamente aveva qualcosa da offrire, così come tanti altri giochi. E questa è la realtà di Forspoken. Poi c'è da dire un'altra cosa. Square Enix è evidente che ha un problema interno, ne abbiamo parlato tante volte, perché Forspoken va bene, ci poteva essere un dubbio, anche se molte cose erano palese che non stavano funzionando, ma giochi come Babylon's Fall non sarebbero proprio dovuti uscire, perché bastava dieci minuti per capire che quel gioco non avrebbe funzionato mai nella vita, non c'era un modo. E invece è uscito lo stesso, ed è uno di quei progetti che a quanto pare è uscito per forza, perché a un certo punto gli hanno detto troppi sì a questo progetto e probabilmente era troppo avanti con lo sviluppo per non tentare perlomeno di pubblicarlo. Però, ragazzi, non si può continuare così. E continuare a tagliare tutto per andare solo sui brand principali francamente non c'entra il punto. I giochi minori di Square Enix possono anche funzionare, ci sono delle belle idee e dei lati positivi, ma c'è la incapacità di cogliere quello che serve per far funzionare veramente il gioco e soprattutto Square Enix ha bisogno, a mio parere, di un dannato aggiornamento dal punto di vista della produzione tecnica dei giochi, perché è rimasta spaventosamente indietro rispetto al resto dell'industria, soprattutto per quanto riguarda le produzioni di media entità, e ha bisogno di un management che sia più in grado di guardare con occhio critico i progetti che sono in sviluppo e dare il sì o il no a dei progetti in maniera diversa. Fare un po' meno giochi dal punto di vista di Square Enix può essere anche una buona idea. Come vi ho detto, alcuni titoli non dovevano uscire, ma Forspoken poteva funzionare se non avessero fatto quello che vi ho detto prima. Perciò è un peccato pensare che lo taglieranno completamente e che si ridurranno a fare cose soltanto maggiori, almeno da quello che si è capito, da quello che si deduce. Poi non lo so se andrà veramente così, magari no. Io lo spero, perché comunque Square Enix ha tanti team che hanno parecchio da offrire, però, mio Dio, serve un aggiornamento da tanti, tanti punti di vista. E a proposito di aggiornamento. The Last of Us parte 1, ragazzi, il famosissimo e in parte anche controverso remake che è arrivato abbastanza recentemente nel mondo videoludico, arriverà presto su PC. Sono stati rivelati i requisiti tecnici. E, beh, c'è stata una certa polemica perché molti utenti non sono stati per niente contenti di questo e c'è un motivo. The Last of Us parte 1 è polemica per i requisiti su PC, serve una GPU troppo costosa. Avete sicuramente letto, le nostre pagine sono da poco stati svelati ufficialmente i requisiti minimi e consigliati di The Last of Us parte 1 in versione PC. A distanza di qualche ora dall'annuncio, però, sono arrivate già le prime polemiche per via delle richieste considerate eccessive da molti utenti. Aver scatenato i giocatori intenzionati a godersi l'avventura di Joel e Delli sul loro PC sono in particolare i requisiti consigliati visto che il team di sviluppo prevede che solo un Nvidia GeForce RTX 4080 possa gestire The Last of Us parte 1 nel migliore dei modi. Questa frase è fuorviante. Aspettate un attimo, adesso vediamo la tabella. Per chi non sapesse, stiamo parlando di una scheda video dell'ultima generazione il cui costa sia giro sui 1200 dollari e come potete facilmente intuire è citato di un pezzo di hardware che solo in pochi possono permettersi. Ammesso di riuscire a trovarlo, perché, vabbè, adesso disponibilità dovrebbe esserci, però è piuttosto recente l'uscita di questa scheda. La presenza di un GPU di questo tipo nella tabella dei requisiti raccomandati è sempre, secondo gli utenti, indice che il titolo potrebbe essere l'ennesima produzione che gode di scarsa ottimizzazione, la quale viene quindi compensata con richieste particolarmente esose in termini hardware. E i requisiti, ho ripreso l'articolo, sono più o meno questi qui. C'è questa tabella, ragazzi, e questa tabella indica come minimi una, per esempio, GeForce 1050 Ti a 4 giga, santi Dio, ok. Però minimi sono 30 fps, 720p. I raccomandati è una 3060 per andare a 60 frame a 1080 e fino a qui ci potrei anche arrivare, anche se comincia a essere un po' esosa. La performance 60 fps a 1440p è una 2080 Ti e in ultra, 60 fps a 4K, ci vuole una 4080, proprio messo nero su bianco. E la RAM, tra i raccomandati di base e per spingersi poco più in là, si passa immediatamente a 32 giga, sono 100 giga sull'SSD e un i7-9700K per arrivare alle performance. 60 fps a 1440p. Ora, a mio parere, un po' si sta esagerando nel senso che ho visto di peggio, però sono sicuramente dei requisiti tecnici che sono un tantinello altini, e questo, ragazzi, mi fa un attimino disperare riguardo a una cosa. Abbiamo parlato recentemente di come il PC gaming, soprattutto ultimamente, stia venendo trattato veramente male lato bug, lato ottimizzazione, lato giochi rotti che escono su PC al day one e che non vengono sistemati prima di un tot di settimane se non mesi, in alcuni casi anche anni, a dire la verità, e questo è veramente un trattamento che i giocatori PC non si meritano, ok? E per carità, chi è un po', come dire, onesto, sa benissimo che questa è quasi sempre stata la realtà del PC gaming, però non così tanto come in questo ultimo periodo, ne stanno uscendo veramente tantissimi, cioè io non mi ricordo francamente un gioco PC che si è uscito senza problemi negli ultimi mesi, ecco, e qui arrivo al punto, avevo sempre fatto un'eccezione se ve lo ricordate, cioè i giochi Sony, e adesso mi dite che anche questo qua ritorna al qualche problemino ce l'ha avuto, però niente di che e adesso mi dite che The Last of Us Part 1 per girare a un certo livello ha bisogno di questa roba qui o stanno tirando fuori un gioco che è fatto per strizzare il PC e offrire una delle cose più belle che abbiamo mai visto su PC e allora la cosa è giustificata anche se poco sensata per un gioco che dovrebbe essere così mainstream e popolare oppure effettivamente il sospetto che sia un gioco ottimizzato non pop in maniera eccelsa viene e francamente ragazzi mi rimando alle parole di Digital Foundry che recentemente dopo l'ennesimo caso non mi ricordo più neanche quale perché capirai prendetene uno a caso in cui un gioco PC ha avuto degli enormi problemi al lancio uno dei redattori di Digital Foundry ha apertamente detto ragazzi a questo punto non so altro che non so cosa dirvi se non dobbiamo tutti quanti cominciare a chiedere dei rimborsi perché non può essere e io per l'ennesima volta mi unisco a questo appello ora con calma perché ancora non è uscito il gioco esce il 28 marzo e avremo una risposta definitiva però francamente non dico tenete i forconi da parte però un po' sì anche perché perché per noi altri PC gamers la cosa sta diventando francamente ridicola e un tantinello poco rispettosa spero tanto che le cose cambino ma a disto passo io credo che andranno soltanto a peggiorare almeno per adesso e ora passiamo alle news a ruota ragazzi Minecraft Legends sono giusto un paio oggi il nuovo video svela i segreti del comparto grafico e artistico dopo aver svelato la data di lancio di Minecraft Legends gli studi di Mojang aprono una nuova finestra sul colorato universo alla loro prossima avventura strategica per pubblicare un video interamente dedicato al lavoro che stanno portando avanti su fonte grafica e artistico i sforzi profusi da Mojang in collaborazione col team di Blackbird si concretizzeranno in un'esperienza visiva che se possibile sarà ancora più profonda e immersiva di quella offerta allo stesso Minecraft giudicare a quanto mostrato il nuovo video di approfondimento sul comparto grafico e artistico lo spin off strategico del colosso squadrettato ideato a Marcus Notchperson vanterà un overworld ricco di dettagli biomi particolarmente variegati e tantissimi elementi interattivi in questa ottica rientra il lavoro che Mojang e Blackbird stanno portando avanti per infondere originalità da serie di Minecraft introducendo centinaia di materiali blocchi logici oggetti strutture architettoniche armi e equipaggiamenti inediti con cui edificare e difendere la propria base dell'assalto dei pigli incorrotti dal nether per avere la contropava non ci resta catenida fino al 18 aprile allora ragazzi io non sono mai stato un giocatore di Minecraft non mi è mai piaciuto mi ci sono mai neanche avvicinato l'ho provato mi pare una volta e non fa assolutamente per me ma complice anche il fatto che Minecraft Dungeons mi è piaciuto assai semplice semplice per carità ma molto carino devo dire che questo gioco ha attirato la mia attenzione e quando è stato mostrato in maniera un po' più completa nell'ultimo evento a Microsoft devo dire che mi ha convinto ancora di più sembra avere le carte in regola per essere un bel titolo ragazzi e anche chi ha qualche pregiudizio nei confronti del mondo di Minecraft vi consiglio di ascoltare con un po' più di attenzione perché sembrerebbe essere un titolo che di cose da offrire ne ha parecchie al di là di quello che uno può pensare sull'ambientazione di Minecraft che è tanto una cosa da bambini però in realtà il gioco ha tanto da offrire già quello base e questo è giusto dirlo indipendentemente dai gusti e i miei ve li ho appena detti ma questo Minecraft Legends questo spin off insomma potrebbe essere un gran bello strategico sapete? comincio ad esserne convinto e non vedo l'ora di sapere se sarà davvero così poi abbiamo già parlato del fatto che Suicide Squad pare stia venendo rinviato internamente a fine 2023 ecco per Jeff Grabb invece si parla addirittura di 2024 la presentazione Suicide Squad Kill the Justice League andata in onda durante il Playstation State of Play non è stata accolta a braccia aperta ai giocatori rimasti invece perplessi da quanto visto Rocksteady avrebbe preso nota e la reazione si parla dunque di un possibile grosso posticipo per il gioco il primo a rivelare questa possibilità è stato il giornalista Jason Schreier secondo il quale Suicide Squad verrà rinviato fino al 2023 per le critiche al gameplay ne abbiamo parlato infatti ma adesso anche per Jeff Gordon verrà rinviato di nuovo Suicide Squad con l'inside che fissato è uscito in un periodo compreso tra ottobre e dicembre 2023 però attenzione per Jeff Gordon scusate ho sbagliato io ecco Jeff Grabb invece per lui Suicide Squad potrebbe essere addirittura e rinviato al 2024 in modo così da avere quanto più tempo necessario per perfezionare notevolmente il gameplay del gioco facendo tesoro dei feedback e delle critiche ricevute ho sentito che nemmeno uscirà quest'anno sento parlare del 2024 ho sentito che nei piani c'è un posticipo ancora più grande staremo a vedere una fonte davvero affidabile dice mi ha detto questo l'insider ha aggiunto che in Rocksteady sanno che ciò che hanno tale mani sembra a marcio per la maggior parte delle persone e che per molti non sembra un gioco divertente francamente mi sento di dire che ha ragione Grab stavolta perché molte persone tantissime pensano esattamente questo di questo gioco io francamente come vi ho detto non mi sono spinto a tanto e vi ho detto che è il tipico gioco che dovrei avere tra le mani per giudicare se veramente il combattimento e tutta la struttura di gioco è interessante e divertente alcune cose si capiscono nei primissimi minuti di gioco e altre bisogna aspettare qualche ora fino a quando non si palesa un po' la struttura intera del gioco anche con quello che si deve fare ecco però molte persone sono perplesse ora un rinvio addirittura al 2024 è una cosa già più pesante però vi rinnovo quello che vi ho detto io spero che tutti quanti si stiano sbagliando su questo perché io credo che non c'è rinvio che tenga o lo rinviano veramente di tanto 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 e si parla di anni per rifarlo per davvero in buona parte oppure un rinvio anche fino al 2024 non credo che nonostante si tratti di un anno praticamente non credo che sarà sufficiente per cambiare quello che è il core del gioco perché i giocatori stanno lamentandosi un po' di quello francamente ora stiamo parlando di speculazioni e quindi lasciare il tempo che trovano e dobbiamo vedere che cosa in realtà succederà tanto prima o poi qualcosa comunicheranno giusto è solo che ho l'idea che prima di sapere nuove informazioni su Suicide Squad credo che dovevamo aspettare un altro po' di nuovo dopo che per tanto tempo ci eravamo chiesti come fosse il gioco e adesso si riparte con l'attesa con tutta probabilità bene gente è tutto per le news di oggi grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale tra cui link affiliate ad Amazon Instant Gaming e link a Patreon per supportare il mio lavoro e il format delle news e infine anche il link alla playlist con tutte quante le crystal news che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast a domani ragazzi e inscrivetevi al canale